Per tutte noi donne, vi siamo sentiti a ricerca del nostro principe azzurro. L'avete trovato voi? Sì, è lui. Perfetto. Vi racconto una storia, come è tanto, di un amore che è sbocciato in gioventù tra una giovane fanciulla ed un ricco principe. Che il destino ha fatto incontrare nel caso quel dì Quando un giorno nel giardino del castello Ehi lo vide e di colpo si fermò Poi raccolse il più bel fiore e da lui si avvicinò Ed istinto con voce tremante mi disse così Porrei essere come un arcio di sole che al mattino ti viene a svegliare E il tuo giorno illuminerà Vorrei vivere ogni istante insieme a te Perché solo se ne arrivi a un pianto io potrò diventare Perfetto. 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 Perfetto.